Io 45 anni fa ho perso una sorellina di 13 anni con lo stesso motivo, un ragazzo di 16 che l'ha ammazzata. Un grande dolore per la famiglia, soprattutto per la ragazza che non c'è più. Sono cose che non dovrebbero proprio assolutamente accadere, assolutamente non devono accadere, perché una donna non si tocca neanche con un fiore, assolutamente. E sono molto colpita e dispiaciuta veramente per la famiglia e anche la famiglia di lui, mi dispiace tantissimo. La famiglia non c'entra in questo contesto. Siamo venuti per rendere un omaggio a Giulia e alla sua famiglia, che abbracciamo veramente con tutto il cuore possibile. C'è una grande comunità stasera qui. Sì, veramente. Sì, siamo tutti molto uniti, il paese di Vigonovo, di Saunara. Ma penso tutta Italia, sa. Manifestare solidarietà anche perché conoscevamo. Ragazza molto solare. La sentiamo tutti come nostra figlia, nostra sorella, nostro nipote. Infatti l'ho visto proprio una settimana fa, che attraversavo la strada, mentre arrivavo con la macchina e ho detto guarda la Giulia.